E' viva, e' viva, e' viva, e' viva, e' viva la scuola! Mi piace imparare, studiare, cantare, pensare, volare! Il tempo maestro ci tende la mano, ci porta lontano, lontano! Gli amici, la scuola, non resti mai sola, la maestra, gli amici, la mamma e la scuola! Buongiorno! Cari alunni, buongiorno! Tutto bene? Avete passato una bella settimana? Sì, sono contenta! Allora, oggi passiamo subito alla lezione. Le lezioni di oggi sono frasi complete, frasi complete del tipo Oggi sono andata all'orto a cogliere i pomodori. Ripeto, oggi sono andata all'orto a prendere, a cogliere i pomodori. Io ve lo dico in logodorese. Oe, so è andata, oe, oggi, so è andata, sono andata, a subunzadu, all'orto, a buddire tra i mattas, a raccogliere i pomodori. Ripeto, oggi sono andata all'orto a raccogliere i pomodori. Oe, so è andata, a subunzadu, a buddire tra i mattas. D'accordo? Oh, molto bene. Intanto, per favore, fate silenzio dal fondo! Da bravi, eh? Mi raccomando. Intanto, passiamo subito, abbiamo un collegamento televisivo. Abbiamo il signor Pinuccio Magnus. Buongiorno! Sono arrivato velocemente, in tromba, da Terrava Bella. Tutti quanti pronti? Andiamo alla lezione, vai! Allora, oggi frase completa, frase completa bellissima. La frase completa è Oggi sono andato all'orto a cogliere i pomodori. Ooi, se ho andato, a sotto, a buddire tra i mattas. Ooi, oggi, se ho andato, sono andato, a subunzadu, a buddire tra i mattas. Ripeto, oi, se ho andato, a buddire tra i mattas. Ooi, se ho andato, a sotto, a buddire tra i mattas. Ooi, se ho andato, a sotto, a buddire tra i mattas. Ok, d'accordo? Ciao! Allora, ringraziamo il signor Pinuccio Magnus, che è stato bravissimo. È troppo simpatico. Lui viene da lontano, da Terrava. Allora, allora, vi ricordo la frase completa, che è Oggi sono andato all'orto a cogliere i pomodori. Eh? Ooi, se ho andato, oi, se ho andato, a subunzadu, a buddire tra i mattas. Ooi, se ho andato, a subunzadu, a buddire tra i mattas. E intanto, adesso ci saranno le previsioni del tempo. Abbiamo preso un ragazzo ormai integrato, che non è sardo, viene da molto lontano. Si chiama Zinku. E quindi andiamo a sentire le previsioni del tempo. Previsioni del tempo. Forse piove o non. No, non piove. Vento, 21-22. Previsioni del tempo. Piove? Forse. Ciao. Molto bene. Ringraziamo il nostro amico Zinku. L'ho voluto aiutare, perché stava cercando lavoro. Poverino, non potrebbe lui vivere in una roulotte, immaginatevi. Comunque, un bravo ragazzo, sposato. Allora, vi ripeto, la frase di oggi è... Sono andata all'orto a cogliere i pomodori. Sono andata a su un zago a pulire la mattasa. E intanto, io adesso vado a chiamare il signor Antonio Icao, collegamento televisivo. Signori e signori, buongiorno. Sono arrivato fresco fresco dalla barmaggia. È l'ora. Allora, andiamo subito alla lavagna. Allora, la lezione di oggi è semplicissima. Frase completa. Frase completa. Oggi sono andato all'orto a cogliere i pomodori. Oggi sono andato all'orto a cogliere i pomodori. Ripeto. Oggi sono andato all'orto a cogliere i pomodori. Ripeto. Per favore, un po' di silenzio là in fondo. Qual è questo caso che state facendo? Che dà fastidio. Non solo. Disturba. Disturba e dà fastidio. E lo ripeto. Oggi sono andato a sorto a colline tra mattasa. Grazie. Adiosi. Allora, ringraziamo il signor Antonio Icao che è arrivato dalla barmaggia fresco fresco. Molto simpatico. Per favore. Ho detto per favore. Fate silenzio là in fondo. Sto parlando con voi. Scusate. Stavo riproverando dei ragazzi che hanno fatto chiasso. Intanto la lezione finisce qua oggi. Delle frasi complete. Un saluto a tutti quanti. Un bacio a tutti. E mi raccomando, seguiteci su YouTube. Ciao. Iscrivetevi. Ciao. 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 Ciao.